Sindaco, dopo il maltempo di ieri avete fatto un'analisi della situazione, insomma dei danni, quali sono le zone più colpite? Sì, ieri la zona più colpita è la zona di Alfieri. Effettivamente alcune aziende hanno subito gravi importanti. Da subito le squadre del Comune si sono attivate insieme alla protezione civile, alla Croce Rossa, e si sono recati sul posto a verificare un po' la situazione. Io sono andato nel primo pomeriggio, ma già ieri ho chiamato anche il direttore generale della protezione civile, il dottor Costarella, al quale ho annunciato anche una delibera di giunta con la quale chiederemo lo stato di emergenza e di calamità naturale. Quindi è una situazione critica, possiamo dire forse inaspettata? Assolutamente inaspettata, non prevedibile, perché la tromba d'aria mi è stato detto, però ripeto, prendiamola con le pinze, che sia partita da Capocolonna, dall'area di Capocolonna, e poi si è spostata sul versante di Isola Caporizzuto. E ha colpito la zona di Alfieri, lì c'è il camping, altre attività produttive, sono allevamenti di polli, però la situazione è sotto controllo e quello che dovrà fare il Comune lo faremo immediatamente con questa delibera di giunta con la quale dichiareremo lo stato di emergenza. In tutto questo che stiamo vivendo in questo periodo, ci sono dei disservizi a cui bisogna far riferimento? Mi riferisco all'acqua e ad altro? Guardi, grazie al cielo la città di Crotone ha retto. Ha retto sia la bomba d'acqua che abbiamo avuto alcuni giorni scorsi, che vorrei ricordarlo sono piovuti 98 mm di acqua in sei ore. Per il resto abbiamo avuto alcune difficoltà sul potabilizzatore cittadino, perché questa notte è stata interrotta la potabilizzazione a causa di acqua che è arrivata fortemente sporca, acqua sporca, però la situazione è già ripresa, stiamo potabilizzando. I serbatoi si sono un po' abbassati di livello, soprattutto il serbatoio di Vescovatello alto, quindi alcune zone potrebbero essere attualmente senza acqua, ma stiamo cercando di ripristinare il livello idoneo. Ma ci sarà un momento in cui bisognerà chiudere l'acqua? Guardi, è vero, ma è indipendente dagli eventi alluvionali che abbiamo avuto in questi giorni. Il Consorzio di Bonifica ha programmato un intervento per il prossimo fine settimana, per cui l'acqua che servirà il potabilizzatore arriverà dal lago di Sant'Anna, ma cercheremo di dare il minor numero di disagi ai cittadini programmando questo intervento.